30 luglio Una mosca impazzita cozza contro il vetro Prova e riprova, poi si posa sul vetro, stanca La traversa incredula di poter camminare su quella superficie Vuola via e in un volo percepitoso torna a sbattervi contro Sempre sullo stesso vetro, eppure il vetro accanto è aperto Osservo lei e penso quante persone fanno la stessa cosa Incapacità di imparare o speranza di poter riuscire La mosca riposa, un punto nero sul vetro La mia domanda senza risposta Per te, un giorno dove tutto possa riuscire